Poche volte la nottolina era partita così male, nessuno può nasconderlo. Basta guardare la classifica che vede le bianconere incatramate al quart'ultimo posto. Numeri nudi e crudi che si commentano da soli e testimoniano l'enorme fatica a plasmare al meglio una squadra ringiovanita. Sia ben chiaro che a scanso ed equivoci in settimana la società ha ribadito piena fiducia alla coach Mary Malucchi. A Roma, contro il Santa Lucia, la prova è stata deludente. Ora ci si aspetta che sabato sera, ore 21 al palapiaggia, mai la Venturi e compagni giochino una grande partita, anche se avranno di fronte la Clementina 2020 Cesena, formazione da quartieri alti della classifica. Sarà difficile vincere, ma una prova tosta e di quelle d'orgoglio, quella sì, sono tornate tutte a disposizione. Ancora più probante, ma con altre prospettive, il compito che aspetta il Versilia Pietrasanta, atteso al big match del girone G di B2, al palagreco di Seravezza, sabato ore 18, arriva niente meno che la rinascita a Firenze, ovvero la capolista del campionato, in coabitazione con la Jus Arezzo. Sei vittorie, ma non tutte per 3-0, tanto che la classifica è corta, anzi cortissima. La squadra di Stefanini e la matricola terribile del girone, avendo 12 punti e sulla carta, chissà se solo su quella, la possibilità di operare un clamoroso sorpasso. Martina Gorgoglione, ruolo banda, la vede e la presenta così. Sabato incontriamo Rinascita, che ad ora è la prima in classifica, quindi c'è tensione, ci stiamo allenando bene, ci stiamo impegnando e per fare bene comunque è una partita in casa, quindi è molto sentita e speriamo di riuscire a capire anche da questa partita a che livello siamo noi.